Cari amiche e cari amici, buongiorno. Oggi una videota fuori programma è eccezionale perché io non trasmetto il solito sabato e domenica. Perché? Ieri mi è arrivato sul cellare un messaggio di una persona di cui non sono riuscito a trovare il nome, ma capirete fra poco, il quale riportava una serie di uscite a proposito dello scioglimento di Forza Nuova e dell'equiparazione con Ordine Nuovo, fatte sia sull'ADN Kronos che a Radio Radicale, dove è stato intervistato Sandro Forte, autore di un libro del 1975-76, mi pare, processo alle idee e che io naturalmente ho nella mia biblioteca, che conosco molto bene avendolo usato. Insomma, sostanzialmente la tesi di questo mio interlocutore era questa, sciogliere Ordine Nuovo è stata una sciocchezza. Perché? Perché di fatto ha reso non più visibile l'organizzazione, quindi molti sono entrati in clandestinità, soprattutto giovani, schegge impazzite, che a quel punto hanno moltiplicato i segni di violenza, la partecipazione ad attentati e stragi. Quindi fu un errore. Io faccio l'autocritica, un po' sgarbatamente, anche perché mi trovo in un momento un po' particolare. Poi, con i miei problemi di vista, ho finito per attribuire al mio interlocutore le tesi di Forte. Gli ho risposto un po' seccamente dicendo, lei non conosce la storia, lasci perdere, non diffonda notizie sbagliate. Devo dire, lui invece con molta cortesia mi ha risposto dicendo, ma questa è una sua idea soggettiva, io mi documento, eccetera, trattandomi come un interventore occasionale. Io gli ho risposto, guardi che io ho scritto diversi volumi sull'argomento, sono stato consulente giudiziario e parlamentare e quindi so quello che dico. Insomma, alla fine ci siamo un po' capiti meglio e io gli ho detto che se voleva potevamo confrontarci sul mio canale. Gli ho promesso di esporre le mie ragioni ed è quello che faccio. Allora, primo punto. Normalmente gli storici si basano sulle carte e solo sulle carte. Perché? È per la banale ragione che nella stragrande maggioranza dei casi gli storici si occupano di chi episodi, personaggi, vicende, organizzazioni appartenenti ad epoche molto precedenti dove non c'è nessun vivente e quindi devono per forza basarsi sulle prove materiali essenzialmente scritti. D'altro canto la tesi del mio interlocutore era questa. Vabbè, voi scrivete solo basando sugli atti giudiziari, le carte di polizia che sono inaffidabili eccetera eccetera. Io parlo per conoscenza diretta, si capisce, non lo dice, ma si capisce per aver partecipato a quel mondo e quindi conoscendolo di persona. Benissimo, ragioniamone per carità. Ripeto, lo storico si occupa normalmente di cose remote e solo lo storico degli episodi più recenti che ha questa possibilità, questa fortunata, possibilità di interloquire con testimoni del tempo. D'altro canto non si può nemmeno dire, eh vabbè però io avendo partecipato all'interno conosco le cose meglio di te. Beh certo, è evidente, ma io storico devo considerarti come un testimone, non come un assertore di verità. Il testimone, c'è un bellissimo libro a proposito del valore della testimonianza in sede giudiziale che dice che il testimone è spesso inaffidabile, non è il caso del mio interlocutore, però perché tradito dalla memoria, perché in qualche modo coinvolto da interessi e passioni. Badate bene, testimone di un senso e dell'altro, non è che solo quelli che si difendono non sono credibili, colpevolisti sì, no no no. Il testimone a sua volta ha bisogno di riscontri. Peraltro sì, le fonti giudiziarie proprio essendo stato per più di un decennio consulente giudiziario so perfettamente tutte le insidie di questa fonte che per di più con l'introduzione del processo accusatorio è il confronto attesi precostituite fra accusa e difesa. Quindi in qualche modo si tratta di fonti per loro natura fortemente faziose e di parte, come giusto che sia, perché che volete? Che un avvocato ammetta la colpevolezza del suo assistito o che l'accusa in un processo di tipo accusatorio sostenga l'innocenza dell'imputato? No, è ovvio che ciascuno ha un partito preso da difendere. Lo so, poi ci sono duemila problemi, ho anche scritto un saggio a proposito del rapporto fra prova processuale e prova storica. Quindi massimo rispetto per carità, per la buona fede di chi interviene, però obiettivamente so che le fonti processuali sono insidiose. Questo però non significa che siano inesistenti e che dobbiamo ignorarle. Vanno prese con le molle per carità e vanno in qualche modo riscontrate. Personalmente vi posso dire una cosa, quando ho fatto lo storico ho esposto la mia tesi. Non mi sono preoccupato di, diciamo in qualche modo, infingere una mia neutralità. Lo storico non è neutrale, lo storico deve essere onesto intellettualmente, ma non neutrale, anche perché poi la neutralità non so. Però quando ho fatto il perito parlamentare è una specie di ibrido fra lo storico e il perito giudiziario. Ma quando ho fatto il perito giudiziario ho cercato di dimenticarmi le mie posizioni politiche di non enunciare ipotesi interpretative, di fornire al magistrato documenti così come li trovavo commentandoli sul piano dei riscontri, che erano quelli che io cercavo nella memorialistica, in altri processi. Sapeste poi le fonti giudiziarie confrontate fra di loro, che cosa fanno a venire fuori, confrontandole con i giornali del tempo, con la memorialistica anche delle persone di destra accusate in certi documenti. Quindi io ho utilizzato sempre tutte le fonti possibili. Ho rinunciato all'idea di esporre il mio punto di vista nella perizia giudiziaria, mi auguro di esserci riuscito e di fornire tanto al giudice che mi ha commissionato il lavoro, al magistrato, perché di solito è un magistrato della Procura della Repubblica, però ho lavorato anche per giudici istruttori, che è una cosa un po' diversa. E per fornirle anche agli avvocati della difesa. Tant'è vero che in più di un'occasione avvocati della difesa mi hanno telefonato chiedendomi chiarimenti su questo, quel punto della mia perizia eccetera eccetera, io mi sono sentito in dovere di darglieli. E quando ho trovato un documento favorevole alle tesi della difesa non l'ho certamente nascosto, l'ho inserito e ho segnalato al magistrato questo. Quindi questo è il modo di procedere in queste situazioni. Ecco, cosa contesto all'interpretazione del mio interlocutore? L'idea, a proposito del libro di Santroforte l'ho saccheggiato per carità, visto pezzo per pezzo, quindi lo conosco bene e so che intanto è un testo superatissimo, è un testo di più di 40 anni fa, processo delle idee. Poi è un testo di parte, ma questo per carità, il suo diritto. E in terzo luogo è un testo che poi i processi successivi e beh insomma hanno un po' smontato, quindi superato, però ciò non di meno, parliamo. Ecco, quello che io contesto al mio interlocutore è l'idea che sciogliere l'ordine nuovo sia stato un errore perché dopo c'è stata un'ondata di violenza maggiore. Ecco, no, questo non è vero. Ovviamente molto dipende anche dalla percezione di chi ha vissuto quegli anni eccetera, posso capire. Però intanto facciamo una cosa, parliamo di stragi. Allora, abbiamo due stragi Piazza Fontana e la strage alla Questura di Milano dove gli imputati sempre di ordine nuovo sono stati assolti negli ultimi giudizi ma con formule fortemente dubitative. Il bello è che poi c'è una sentenza molto divertente che riferendo del processo precedente, quello degli istruttori d'Ambrosio per intendersi, dice eh sì, se adesso rifacessimo il processo Fredo e Ventura sarebbero sicuramente condannati. Purtroppo non possiamo riprocessarli e fu il clima dell'epoca e quindi sono stati assolti ma assolti ma non per questo eh convince quella sentenza. Per cui la magistratura poi c'è questo vezzo, è pronta sempre a condannare l'imputato del processo precedente che è stato assolto. È un metodo piuttosto divertente. Poi vorrei ricordare che ehm freda per quanto formalmente non abbia mai fatto parte di ordine nuovo però partecipava alle riunioni della direzione di quel partito e abbiamo trovato i verbali e quindi in realtà sempre ordine nuovo porta a quella faccenda. Quindi su Piazza Fontana abbiamo questo e dopo nel corso dell'istruttoria, salve Parabellum, eh nel corso dell'istruttoria di Brescia sono venuti fuori altri documenti, altre cose a carico di quegli stessi imputati. Cioè Carlo Maria Maggi che era l'ispettore regionale di ordine nuovo in Veneto e Delfo Zorzi che pure era di ordine nuovo. Quindi abbiamo degli imputati assolti con formula dubitativa che ancora una volta portano ordine nuovo. Stessa storia e stessi imputati ehm sono stati eh assolti per la strage di fratebene fratelli. Quindi ancora una volta una formula dubitativa su imputati di ordine nuovo. Ora capiamoci da un punto di vista giudiziario è andata così, si è conclusa e io sostengo che processi eterni non se ne devono fare. Quindi sono stati assolti, sono assolti. L'ho detto per Calogero Mannino, l'ho detto per altri, l'ho detto anche per Dell'Utri, quindi anche persone diciamo distanti politicamente da me. Lo dico anche in questo caso, persone altrettanto distanti politicamente dico processi eterni non se ne fanno. Da un punto di vista giudiziario quello è il punto d'arrivo. Però però il Tribunale della Storia non è tenuto a omologare le sentenze della magistratura ordinaria. Eh questo diversamente noi riterremmo ancora colpevole il fornaretto di Venezia. Eh beh anche Giovanna d'Arco sapete eh la sentenza non le fu molto favorevole come ben ricorderete. E a ben vedere anche Gesù Cristo se la passerebbe male perché comunque la sentenza non gli fu favorevole. E quindi come potete vedere la storia rivede le sentenze. La differenza è una. Il magistrato deve irrogare una pena spesso limitativa della libertà di una persona, a volte addirittura una pena capitale. Lo storico non deve irrogare alcuna pena. Quindi questo in qualche modo alleggerisce la sua posizione. Bisogna dare atto delle assoluzioni. Questo è vero. Ed è giusto che sia questo. La magistratura ha detto questo. Io non sono convinto per questi motivi. Comunque fino a quel momento noi abbiamo stragi che portano ordine nuovo. Anche se insomma ci sono molti dubbi ma se leggete le sentenze vi accorgete che se c'è la soluzione dei singoli imputati man mano che la storia procede che la mano fosse di ordine nuovo come organizzazione diventa sempre più diffusa, sempre più precisa. C'è una sola sentenza delle tante processo Bresciano che rimette in discussione questo dato ma poi la sentenza successiva dice guarda che si sbagli su ordine nuovo. Abbiamo poi il caso di due casi anzi. Quello di Peteano e quello di Brescia. C'è anche il caso di Gioia Tauro ma che io qui non considero perché gli imputati parimenti assolti per insufficienza di prove portavano piuttosto ad avanguardia nazionale l'altro gruppo. quindi quello non lo considero. Il caso di Peteano un po' particolare perché l'attentato fu fatto e rivendicato, l'uomo tuttora lo riconosce, da Vincenzo Vinci Guerra militante di ordine nuovo con motivazioni un po' opposte agli altri perché Vinci Guerra sulla cui onestà personale io non ho dubbi voleva spezzare il rapporto fra carabinieri e ordine nuovo. Quindi colpiva dei carabinieri proprio per lacerare questa intesa. Quindi diciamo politicamente è una cosa diversa dai casi precedenti però faccio notare che anche Vinci Guerra era ordine nuovo. Per quanto anomalo ma insomma Brescia, anche Brescia, porta a imputati di ordine nuovo e lì abbiamo una sentenza che li condanna. Una faticosissima sentenza seguita a un iter processuale lunghissimo. Quindi fino allo scioglimento, anche se Brescia in realtà non è proprio successiva precedente perché lo scioglimento del novembre del 73, la strage di Brescia è del maggio del 74 ma comunque diciamo appartiene sostanzialmente a quel tipo di... tanto è vero che precedentemente era in corso la progettazione di un attentato all'Arena di Verona quindi ci spingiamo proprio al ridosso dello scioglimento e dopo quello è vero che ci furono una serie di episodi di violenza. Peraltro vorrei dire la vicenda dei Narra che un po' mescolava tanto elementi di ex di ordine nuovo quanto ex di avanguardia nazionale e però attenzione era fatta da giovani che irridevano i loro predecessori chiamavano i tramoni. Quindi questa equivalenza proprio diretta scioglimento di ordine nuovo schegge impazzite non è proprio credibile perché probabilmente quelle schegge impazzite ci sarebbero state comunque proprio perché molti di questi non erano affatto ex di ordine nuovo e avevano scarsissima considerazione dei vari personaggi che avevano animato di ordine nuovo o la guardia nazionale. Vediamo un po' dopo lo scioglimento che stragi ci sono essenzialmente due Bologna e la strage sul treno 904 successa a Natale praticamente del 1984. Ecco no proprio schegge impazzite non erano. Bologna il processo e il dibattimento è in corso e io sono stato perito anche in questo processo e ci descrive l'istruttoria vedremo la sentenza e in modo un po' diverso tanto schegge impazzite non erano perché dietro ci sarebbe stata se poi raggiungeremo questa conclusione uomini che non erano poi tanto schegge impazzite di Cioggelli e Federico Umberto di Amato. Cioè quelli che hanno partecipato e a questo punto anche i primi due condannati, Lamambro e il suo fidanzato, non erano schegge impazzite come all'inizio si era pensato, erano i del sistema di potere. Quindi direi che questo non va messo nel conto dello spontaneismo armato di destra di quegli anni. Stesse considerazioni possiamo fare per la strage di Natale sul 904 dove dietro c'è sempre uno che è un ex ordine nuovo però attenzione lì poi il processo ha avuto vicende ancora più incasinate però anche uno di quelli era un ex ordine nuovo però attenzione dietro non c'erano solo soldati politici no no o schegge impazzite dietro c'erano organizzazioni della malavita organizzata che reagivano al processore di Palermo che era in incubazione. Ecco quindi le cose non stanno proprio in questo modo. La verità è che lo scioglimento di ordine nuovo di fatto produsse una riduzione dei tassi di violenza rispetto alla fase successiva. Certo non ci si poteva aspettare che il giorno dopo cessasse tutto, questo no. È ovvio che c'è una parabola che devi attraversare. Dopodiché perché fu sciolto ordine nuovo. Questo fa parte di un prossimo video che faremo sul perché il msino fu sciolto e ordine nuovo sì. Questo è un discorso che faremo. Dunque lo scioglimento per la verità con una forzatura costituzionale non da poco fu attuato dal ministro interno Taviani dopo la sentenza di primo grado. In realtà avrebbe dovuto esserci una sentenza di secondo grado. Lui però decise per ragioni di emergenza eccetera eccetera e contro il parere di Moro che Berlista aveva molte perplessità su questo di sciogliere immediatamente ordine nuovo. Ma lo ha anche chiarito il perché. L'emergenza era solo un motivo come dire per rendere accettabile il provvedimento. Lui lo dice era perché voleva lanciare un segnale alle forze di polizia che fino a quel punto avevano coperto e protetto ordine nuovo. E in effetti la serie, la prima serie di assoluzioni fu in larga parte dovuta ai depistaggi della polizia che proteggeva ordine nuovo. E devo dire che la scelta di Taviani fu coronata da successo perché tolta la coperta calda della polizia su ordine nuovo poi appunto i tassi di violenza diminuirono. Quindi ecco è questo il punto su cui devo dire in forma un po' sgarbata. Ho espresso il mio dissenso. Il problema è quello che facevano le forze di polizia in quel momento. E le forze di polizia erano parte del processo. Non a caso lo spontaneismo armato godete molto meno delle protezioni poliziesche che sempre un pochino non sono mancate. Anche dei magistrati. Perché poi il bello è che quando si parla di depistaggi si parla della polizia. Va bene? Ma mica la polizia è stata la sola. Quanti magistrati. Sai quando succede dopo una strage che la polizia va a fare una perquisizione e nella casa del padre di uno degli imputati ci trova in amorevole colloquio il procuratore della Repubblica di quella città. E questo crea qualche perplessità anche nei poliziotti. Quindi per carità torno sul fatto che sono molto diffidente sulle carte giudiziarie. E' evidente ma non per questo le posso ignorare. Né possiamo accettare la tesi che di queste cose debbano parlare solo i testimoni diretti che stanno dentro. Questo criterio delle Brigate Rosse dovrebbero scrivere solo gli ex brigadisti e così via. No, non è così. Allora questo vengo al punto. E' stato usato come argomento per dire no non sciogliamo forza nuova perché poi partono schegge impazzite. Posso riconoscere una cosa che obiettivamente l'emergenza di quello che c'erano gli anni 70 non è l'emergenza di oggi. Insomma un assalto alla sede nazionale della CGL non è una strage. Questo lo so. Però attenzione. Infatti io nel primo video in cui ho chiesto e insisto su questa posizione lo scioglimento di forza nuova dicevo vabbè non è che dobbiamo aspettare un'escalation di violenza che porti di nuovo alle stragi e né mi posso accontentare in caso di stragi di punire i responsabili individuali di cui riesco ad avere la prova e di lasciar perdere tutto il resto e lasciare in vita l'organizzazione quando invece quella strage o quell'atto di violenza è stato il progetto dell'organizzazione in quanto tale. Quindi io insisto a dire che prima che la situazione degeneri una solenne sverla ci vuole anche perché non è che questo è l'unico episodio di violenza e veniamo da dieci anni e forse venti di continui episodi di violenza. D'accordo violenza del minore non c'è mai scappato il morto. Sì però insomma ha un carattere di sistematicità che deve trovare una sanzione e il parallelo con ordine nuovo non funziona molto. Tra l'altro vorrei ricordare una cosa che forse il mio interlocutore non sa in sede d'appello non solo vennero assolti molti imputati ma venne revocato anche lo scioglimento di ordine nuovo. Quindi quello non fa precedente diciamo giurisprudenziale. A differenza dell'Evanguardia Nazionale che fu sciolta in primo grado e ebbe una sentenza di secondo grado di conferma. Nel caso di ordine nuovo ci fu il tornare indietro rispetto allo scioglimento però nel frattempo i dirigenti erano migrati all'estero, i rapporti a rete si erano sbrindellati, i pochi superstiti dell'organizzazione, qualcuno era conflitto da altre parti, qualche altro ha smesso di far politica non rinacque ordine nuovo. Non ne sono contentissimo di questo esito, intendiamoci. Quindi nel complesso anche un scioglimento, non esito a dirlo, incostituzionale, tutto politico, sortito effetto. E non è vero che dette luogo di per sé al fenomeno schegge impazzite e un aumento della violenza. Ci fu una diminuzione della violenza. Le schegge impazzite in buona parte non vennero da ordine nuova, per esempio da una sezione del movimento sociale di Roma, come qualcuno ricorderà. Non è vero che sia stato inutile perché poi comunque ha tolto di mezzo un elemento pericoloso della dialettica politica che aveva fatto cose molto più gravi prima dello scioglimento. Quindi la mia contestazione riguarda questi punti, dopodiché sono disponibilissimo a discuterne. Spero che il mio interlocutore si faccia vivo, magari organizziamo anche un confronto. Sapete che io su questo sono dell'idea della massima libertà di discussione. Grazie a risentirci.